Presentazione della nostra macchina per la rimozione del tatuaggio laser P, la soluzione leader del settore che offre funzionalità avanzata per la rimozione professionale del tatuaggio e il ringiovanimento della pelle. Questa macchina laser a picosecondi è progettata per la precisione e versatilità per soddisfare le esigenze delle cliniche dei saloni di bellezza. Questo dispositivo funziona con la tecnologia Picose Coat, garantire una rimozione rapida ed efficiente del tatuaggio, oltre alla rimozione dei tatuaggi, è anche specializzata nel ringiovanimento della pelle, nello sbiancamento e nella rimozione di sopracciglia e highlight, rendendolo ideale per L e Apos, uso in saloni, cliniche os. Grazie a tutti Grazie a tutti